peli ho detto bordo accoppiato vincente per la nuova italia esatto signor slovini che ha avuto 12 voti 8 per questo è con totale di 20 un totale di 200.000 allora aspettiamo 2 minuti e vediamo se se il sosso sosso perché posso invitare non posso invitare non si riesco mi sa che non posso ho sbagliato devo giocare con jack parker ho 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 no mi sa che non posso chi dovresti invitare ginger però sto mi ha invitato lui andiamo da noi tu devi invitarci a noi ti ho mandato uno screenshot su discord l'hai visto? guardalo guarda un po' le persone in basso chi sono aspetta riesce a vedere? riesce ad ingrandirlo? no si si ci apre l'originale aspetta mi rimane leggermente sorpreso e non è kill your friend aspetta un attimo che sto convincendo questa a far venire per la triplice alleanza chi è? o te aspetta che due coglioni però stravasare così è un po' altamente coglione perchè io devo andare è forse sto ginger? eh? è forse sto ginger? non lo so non è che ciò ci ho giocato ho fatto una partita e sono morto subito perchè penalizzava me alla massima potenza ah la venita su ts io non ce l'ho io lo devo aggiornare e mi rompe le palle ti vengi sul discord caspita ora che non ora ts ora che puoi ti essere rotto dai ho già messo dalle liste di amici io non voglio stranieri non voglio inviare gli stranieri io non voglio inviare gli stranieri non vedo da questa screenshot cosa c'è di male screenshot ah guarda le persone sotto e non me le fa vedere molto bene riesce a fare c'è dove essere aprilogli uno eh quello lì quello lì che è uscito è l'amico lì l'amico tuo quello che ha acquistato ma l'hai trovato? è un instant cioè non nel senso che entra ed esce subito prendo quelle due pah fuori dai coglioni io contro i killer forti non ci voglio giocare guardi come la gente fa wow bravo cito quello perde un pip così subito perchè tanto perdere tempo con gente così con un killer forte oh tra 3000 lupe del camped sembra sembra zeb dal nome Ma no, non è Comunque Comunque mi mancano Onestà Metti pronto Ah, devo mettere Jack Park Jack Park devo fare la cosa, vero? Devo fare i generatori, penso a te Tu devi fare i generatori Io no, devo salvare le persone Io, Luigi Di Maio, Presidente dell'Italia Non è vero? Che cazzo è Di Maio? Non mi ricordo Presidente dell'Irmoto Salvini E il consiglio è quell'altro Di Maio che caspita era Me lo ricordo Non è che me lo ricordo Buu, vabbè, chi se ne frega Noi siamo qui Per scacciare I stranieri da questo gioco Devo prendere il Jack Park Con la torcia Io non volevo Ma chi se ne frega Ma, o non ho più rituali? Ah, quindi non posso Posso anche non fare i generatori Sao, sao Niente, l'ho finito Ho finito di fare Ah, no Devo mettere Ah, no Ah, no Ma loro vengono, no? Uh, la chiave Uh, un kit medico marrono ho messo Ma vengono, no? Che dobbiamo andare noi sui TS? No, 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 no Loro sono chiesto e su disco Eh, no, è brutto così Mori, vedi? Ma mori Perfetto Premi di quattro Per me è un'Italia manca Eh, colpa mia Eh, Jack, perché ne sapevo che aveva la torcia? Eh, ma tu sei un cancro Io sono Jack Park, non sono un cancro Ma tu sei Jack Park Qualc'è il massimo di broad points in questo gioco? Un milione Così poco L'hanno ridotto No, è sempre stato così Ma pochissimo Ti fai 50 livelli Ma neanche in realtà Unchia, che schifo Non capisco perché Ti rendi conto Ti rendi conto che servono l'ira di Dio Eh, vabbè Madonna che scura Vabbè, sono partito io vicino un'ombra Siamo tutti vicini No, no Ma io sono la 4x4 quasi 100G killer Eh, clown Minchia, ma già trovato E poi ovviamente non c'è una pallet Non taglia la strada Minchia prestigio Doce è ruina qua No, vabbè Che cancro C'è ruina qua da me C'è cosa che mi ha sciolta Sì Ma di fianco c'è Mi ha spawnato praticamente davanti Ma cosa è sfiga Ma che sfiga Dai, becca subito Becca tutto subito Però ho stato subito Amore questo qua proprio distante In una partita Direi di conto Cioè vuoi fare per me Che vuoi fare per me Dio muore Cioè vuoi fare per me Però ho paura a venire Perché tanto sa Dio sbattuto 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 Vabbè Giustamente Eh bastardo Vorresti Ho fatto un po' Eh Eh No Ma ho preso Eh cazzo Eh cazzo di coglione ma non solo io la sessione cassone non c'è un po' quanto cazzo veloce scopo per buon domani non cazzo leccolo bastardo ma quanto cazzo veloce c'è peggio di mayer no ma io sto bene dipende dai costi che usa non vuoi proprio veloce dipende di se come il trappero il trappero mi pare che l'altro veloce non vuoi buttarmi ora che non ho veloce che non ho il coso va bene quanto mi ralleti sono sul pallet niente non lo sa sta caricando le bono eh avrei pure la torcia non ci arrivo ma la dc guarda gli uncini sono troppo vicino ormai ma sta mappa è una mella prima anche perchè io non so dove sono i pallet quindi io ero un po' a caso mi ha lisciato due o tre volte ma si vabbè no è anche vabbè pure hacker dai è pure citer è pure citer non solo è cancerogeno vai vabbè era oltre la finestra di ben 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 po' vabbè oh morì horror bella vabbè che citer mi ha preso oltre la finestra un bel raggio lunghissimo di coltello e debbono si ovviamente debbono barbecue ruin forza brutale mamma mia pure quello che inizia con due buttie extra non non per per non non l'incredito per l'altro ma non è che a tanta mera basta fare zigolin zigolin non è e anche lui mori non hanno maggiore mappero mappero con la pelle ha appeso tutti tranne lui quindi è andato anche bene ma l'ha messo di brutto non mi è inutile che si nasconde se c'è scrive perchè è il barbecue barbecue del citro c'ero dietro un muro mi ha visto vicino all'uncino quindi più di 40 metri non ero no no dov'è Vedi te l'ho trovato subito E' inutile Vai 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 Dico se lo sto seguendo ancora Si Questo è il palo tranquillo E qui hanno tolto altri pallet Hanno tolto un bordello di pallet Hanno tolto Però guarda la cosa Con la cacciatrice Che è difficile Che è abbastanza difficile mirare con la citta lente Gli riducono la citta 1 A lui no Lui si può mettere quante molotov E' ammazzare tutti Vabbè tanto a sto punto Me ne frega No no L'hai detto bene Eh guarda subito Dritto proprio Ma continua tanto che te frega Ormai si è morto Mega la chiave Comunico mag No ma la botola non c'è Eh appunto Il problema è che Ma hai te l'ho trovato E' inutile È inutile E' inutile L'ho trovato subito Tieni la Tieni la Quante lento a fare il genere Dio buono Eh no M'è morto quello Ah ancora Ma già perché vuole vedere te Questamente Appena lo appende Io faccio finta di star fermo Poi mi muovo Sì Sai da dove devi andare Nella 4x4 Vai là Arriva E poi mi giro Oh che ritorno indietro Ritorno indietro Ecco ecco No ma penso che ti abbia visto Ma tanto è veloce Che ti ha visto Cazzo È velocissimo E poi è un cheat Quindi è inutile Che ti nascondi Ti ritrova subito Lo stesso Poi palette Non esistono E la fa culo No ma cosa ti blocchi Gioco di merda Gioco di merda E vorresti Te la faccio sudare bastardo Eh se Ciao core Non so dove sono i paletti Sta mappa Eh non ci sono nessuna parte Una palette Ha nemmeno tutti gli incini Ridotti paletti Perché ovviamente Così Ma guarda come Questa cosa vuol far Vuol ammazzarmi davanti a lui E poi Boh Levere Guarda che faccia È italiano Ho visto cosa vedo Le mie occhi Non lo sta neanche tenendo La mano Guarda Non c'è un palito Guarda Non c'è un palito E' male Mi sto E' pagato Questo è in italiano Lo vedi Questo è l'anno È russo Russo Giustamente Passardo Sì Sì vabbè dai Ma quanto ho qui Sto 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 Cosa Se ne va Va pure Che cancro Che poi vabbè Spawni Te lo trovi davanti Che sapevi dov'era Sti russi Sti russi Lo raccontano bene Uno l'ho salvato No Perché giustamente Ma è bello Mi l'ho messo vicino Io vado Non ce lo scarichi Tutti S No No Non andare Non è inutile Cioè tanto Non ci invitano più Primi Ah no? No perché non mi stanno Invitando A me Anche a me Secondo Se poi dobbiamo Trovare Stagente Con loro No Facciamo il duo noi E basta Facciamo il duo Dei politici Che c'è E battuta Muah Ah c'è invitato A me è invitato Sì anche a me Andiamo Era bella sta cosa Cosa? Questa lobby Sembrava E poi scusami Se si vogliono scaricare qualcosa Lo scarico a loro Che ti Eh Se a me fa cagare Prima Non lo sopporto No no Ti giuro Non riesco a vederlo Perché è troppo complicato E' semplice Una volta me lo sopportato L'altro E tra l'altro Laggava Quando parlava La gente De un babasto Cioè Discord è molto più Prende qua Meno internet Quindi Russo bastardo Dove se ce la ritroviamo Te lo immagini? Eh scopriamo se c'è veramente Il bollato O meno Quanto è bella Crowd at Così Eeeh Che qua Non è l'ultimo No No Se no Direbbe Io non li uso contro i premade Ste cose qua E poi no? Perché tanto vinci su Vincivisi Contro i premade Perché tutti vogliono salvare Giustamente Eh vabbè Che sassi Che sassi Pim 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 Puzza Il culo Eeeh Che velocità Eh Poi c'è Da me c'è scritto Matteo Salvini Russo Senza Beh questo qua Abbiamo capito L'ha riscritto Poi Ma te mi senti? Sì Ah ok Gli ho pure eliminati Tutti? Tutti? Li ha eliminati I nostri commenti li ha eliminati Ah io non li ho commentato Ma vabbè Oh vedi Se adesso non cuita questo Il fatto che ci sei Ti aspetta un pugno Sos Dai prima che cambi idea a questo killer Metti pronto Campe di merda Ma io dico Larry Giusto perché Giusto perché Ormai abbiamo iniziato col cancro Continueremo col cancro Vabbè Larry Guarda guarda Non c'è nessun commento negativo Chissà perché Ah beh l'ha detto Li elimina tutti Quelli non negativi Questo è Il russo medio Il russo medio Mi disse gioca a Eurotrack Voglio sapere ora Perché Tutti i russi Gioca a Eurotrack I russi sì Se vai su quel gioco Online Trovi solo Non ce li ha Le immagini screenshot Con The Witcher Trovi solo Scritte in russo Perché Gioca solo quelli Oh cassa Adesso mi trovo Mi trovo Adesso ди Se hai Rum No non credo Cassa marrone Se la posso anche tenere No vabbè Buono Per fare un incendio Buono Fai un incendio Sui consigli Mi fai un incendio E poi riprendi il kit Ma fai tito Eh Allora Ci lasciamo subito Ma prenditelo tu Un po' Po' Che vieni dove sei vabbè, finisco sul genere che cazzo è giusto il killer chi è il maiale è sperto? speriamo di non essere il maiale perchè ho il dedardo io contro il maiale io no, non ho visto neanche uno la donna stamè che mi ha fatto morire dove siete voi? al campo ah, senti i cosi ah, è il clown, madonna che palle di nuovo ma altra volta che palle palle ma tanto non lo nerf carano mai e che già si lamentano che scarsa come si lamentano che scarsa? si, si lamentano che scarsa come cazzo da fare dire che scarsa dopo che torno nel fatto i pallet e non puoi fare cosi minchio come l'ha preso ah, vabbè anche l'ho preso il mondo ma è pure baffato fai questo qua minchio credo sia la sua mappa perchè tutto campo aperto lanci le molloto per i prendi sicuro no vediamo se ha barbacchio barbacchio viene da me diretto che sto facendo indigene, sono vicino a lui provo salvarlo io tu continua a fare vai stai ritornando indietro mi so sa per te si vabbè io finisco sul genere e mi ha visto oh ma che come come cazzo ha fatto ma c'è qualcosa che non va ma sono messo questi clown vado no, c'è l'altro c'è l'altro che le tue 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 ho visto se io sto facendo no no, io sto sono vicino sono vicino al doverito prima mi so dove è morto questo praticamente so allora ce l'ho io si però non sto facendo quel genere adesso vedi quale sto facendo ecco cazzo proprio di piacola arriva a dare per i nostri porti provo salvarlo io non c'è le molotov non c'è le molotov quindi devo andare io? no no, sono io sono io ah guarda, t'analizza mamma mia come t'analizza cazzato l'erciopo beh tu fai leggendo veri prima lo sto facendo quella la 4x4 ok e ce ne rimane quando appende uno lo farei lo farei credire ho due coglioni se questo non quit ho già tanti morto e anche male adesso verrà dritto da me ah no forse no per questo per questo però una cosa giusta è che ha aspettato almeno essere appeso al gancho ma per farlo ah per farlo ah no ah proprio ah 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 nel carico dovete stare balla vai e li dove ci sono i maiali che sto facendo uno io non so se lo capito se anche a perché visto visto l'albero con il migliore apresi tutto il proprio dritto viene anche visto ma che abbia il nome ma guarda se ce l'ha viste sti bug di sti scia rosa che buono ma dove? non le vedi a volte dopo che lancia una moto esce una scia a random ma porco oh non mi fa più abbassare ok ora ma è perché si sminchia perché si apre origin e mi dice chi è online è bastardo no è no è coso però che ritorna dai vieni da me almeno non t'anelizzare ma no è lo scherce che ti merda vaffanculo dai che cazzo di tempismo neanche ho fatto il coso poi il suono bastardo mostrici conto che cosa no il fatto dell'anno cura di sé che si rimette da zero se per sbaglio togli la mano dalla mouse mi fa incazzare ma tutto a favore del killer tutto tutto contro il killer lo fa si si c'è proprio incazza poi dopo capiranno che non manca solo che li metteranno che mettono la discesa dalla finestra la prossima la forza la parola no a niente apropa la parola per la parola per l'alto i sarietta la vera da perere tu controlli top non so mai ho sentito di fianco troppo robot ho sentito no non ce l'ho ma che non c'è l'uomo e' molto lontano allora tu non hai la roba servono ti copro io si si allora io ero io non prendo uuuh dai che fasto ce la faccio ce la faccio ce la faccio però aspetta a salvarlo vabbè lo salvo lo salvo dai correte vi copro arriva arriva ritorno vuole me? si vuole me tu corri all'a... tu corri all'uscita vieni all'uscita niente mi ha rallentato guarda che figlio di puttana figlio di puttana oh vienemi a curare così facciamo prima ma no questo è morto non è morto è morto al secondo stadio l'avevo già salvato io eeeh niente è morto te lo dico io si sto cazzo guarda e' mai l'uomo dove ero la botta l'hai detto? vabbè scappa tu eeeh dall'altro shit si sono l'altro shit ah ecco ma ma perchè ho usato questa la cassetta viola con... un pezzo nuovo? perchè quello si è disconnesso anche? ah forse per non perdere il coso? non lo so io sono già con lui si arrivo ok 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 hai letto? che vengono ben che buono questo è buona come cosa buona saperso io posso prendere tutte le torce viola e altro f4 me la tengo si però per dirlo vabbè che se ne frego un pippo ma fai te lo chiedi, non lo so eh, c'hai mai un pippo eeeh... sei nata stile nostra facca che cazzo eh beh 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 c'è un pezzo nuovo, il pezzo nuovo ma è uno nooo, non ho la potenza in troverta dall'era di dall'era di genitorio ma devo aspettare che devo che se andasse da un'altra parte si poteva salvare ma non viene più ah non lo so in teoria non lo perdi proprio ma non ho fatto caso se l'ho perso in me vabbè chi se ne poter intanto per i punti che te ne perdi 10.000 ma per il killer ne prendi 30 e fai tu il cancro col killer, lì fai scamp bello tu puoi con l'errino, ne prendi uno e poi la fai scamp vabbè quello che l'ho più nel piazza nel corso nel base mentre sei un angolo con ma fermo la mia amica mi è tornato sono andato sono andato a casa di uno di un amico che l'ha fatto no? no no perchè non aveva un cazzo da fare ti giuro quanto quanto si incazzano dopo si 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 ti cazzano come la merda si 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 ti cazzano come la merda che sono? ah che cosa? sa cos'è? non sapevi cos'erano le baldracche? non ho capito eh ma sei scemo? tu sei stupido mica sono del nord io vabbè da voi si dice puttane zoccole però comunque eh valdrà che si capiva dai su che no la classic era una come urla i pip purra quindi ah no chi è? ah tell real c'è rotto ci sono due tipi di loro strud uno struns e l'altro strudel esatto non c'è non è no non è ma non è non è è no avevano tu c'hai degli occhi di merda posso dirlo ma dai è vero ma io non li vedo la sembianza no la fusione strude andiamo a casa di lauree di laura strada no ho detto una cazzata però laura strada laura strudel e suzer non sai che ne ho scritto due volte cosa a mastercast e mi ha risposto ma si trascritto di rischio di discorsi un po la sas ah giusto con lui solo così non puoi parlare in questo modo io gli ho scritto una volta e mo valla a trovare ma in teoria puoi vedere quei commenti si si eccolo qua ho trovato subito e ho mandato avevo fatto tipo una specie di esercitazione in inglese scritto mobiles are considered to be dangerous by lot of teachers do you share their idea gave expressions sas e lui cosa sta risposto il sas è sempre l'opessione migliore lui 10 e sas oh tu ma io sono sparato in mezzo ma arriva al centro sento già la cacciatrice sento nella casetta di mayers min min lori ma che mi as lori o no mi ha visto oh no ma visto alla maledizione della ninna nanna allora sta con la cerca attura eh forse può sciottare perchè mi stava se c'è la lenta se c'è la lenta si potrebbe un po' me ne dubbi no 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 anzi però era già la terza eh vabbè dai ma quante ne vuoi lanciare? di più? ma quante ne hai scusa? 5 no no ne aveva di più me ne ha lanciato i giaci? me ne aveva buttassi di si c'è la donna con il culo del clown no le shuttle design ma anche di brutto qualcuno ha buttato un uncino mi è caduto un uncino di qua che ha detto defensive strike no che c'è barbecue? no no perché ha fatto rumore giustamente ma volete salvarmi invece di dire che ha fatto rumore? che io devo usare la mia ruspe dove cazzo va? in questa piazza di merda brava laury curami laury ma che cazzo più veloce laury più uno che l'ho detto dal cielo ma come fa a sapere che ero qui? meno male che gli ho fatto un 360 ma addio allora non farmi vestemmiare è gioco di merda perché questa tunnelizza anche mia madre e guarda lei ne frega un cazzo proprio deve uccidere me e solamente me se no non è felice anzi adesso mi ha lasciato andare perché ha visto Laura ecco esatto ah ma lei avrà per forza le size perché se non lo ha guarda se non lo ha oppure la risciata oppure non è lo sessile entra dentro la casa e non tornare mai più torna a casa tua e non tornare mai qui questa è la casa nostra ritorna lì non ritorna sono sulla strada a fare un genere vicino a voi sento la scia della ascia si è perché è vicino a noi però non ce l'aveva con noi ce l'aveva con qualcun altro ah ce l'aveva con l'altra ciao ello oh tanto sei brutto eheh boah arriva dov'è eh non la vedo ahi lì cazzata nera ma e chi vede me giustamente chi deve colpire con l'accetto è me perché se no non vado bene cazzata nera dai quello con me è bene oh ma non ti vado con me cazzata nera ma c'è ma com'hai fatta a vedermi spiegami questo eh eh ma perchè non scappi eh eh più volte bobo guardala bobo 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 su 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 ha cambiato strada sei andato? si perchè ha visto me ha capito che ero troppo forte no ritorno che sono andato a fare il generatore ma per cazzata ve ma come ha fatto da non è vero che gioco di merda però certe volte gioco di merda di merda non si è scappato si contiamo la casa ti vede subito ma questa qua vede oltre i muri perchè veramente cos'è nuova di me c'è c'è qualche hack che non hanno che 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 riescono a fare perchè cazzo c'è tutti ti vedono in una maniera così veloce cioè eh boh o sono io che non mi so più nascondere con 4% ore di gioco che non mi so nascondere è un problema però non mi sembra sono le scie che rimangono un bel po' no no eh ma non credo anche perchè io non correvo cioè se non mi trovo io non corro fatti curare dove vai non correre bella prova a salvarla cazzata via non ce l'hai più con me mi torno indietro per questo no no ce l'ha con me ce l'ha con me eeeh guardala oh mi ha perso brutta scancra devi morire sono dentro la casa di strud minchia la mia nana si fa sentire ora però è più veloce che si fa il genere con la mia nana perchè? perchè le scritchi e crevo subito ma ora gli eccellenti subito cioè so già metà da solo quasi eh eh vabbè è lisciato l'oro da cagli eh vabbè è lisciato stupida cancra fai schifo fai schifo già il terzo ti devi ricaricare ah 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 fai schifo vi rido in faccia poco oh 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 no vabbè non è più forte era più facile ah le sirene della polizia quanto fa male agli occhi ah e io mi sto nascondendo proprio in quella macchina devo mettere la mano se no mi da fastidio cazzo è stata proprio mi ha perso oddio oddio ahahah oddio ma se si ributta oddio mi sono messo caduto dalla finestra e mi sono messo nei gespugli e mi ha perso sei proprio sotto di lei ero non è che ero come ho fatto a non vedere poi che non è che sto neanche con la scuolezza poi ho detto 1 e' bene ma resta campana quello finito quello che è trovano un altro che ti devo dire beh siamo in 4 quale sarebbe quello che ha operato ho già finito davanti alla casa quella cosa lì c'è un'altra casa dietro c'è un generatore no ah ma ecco perchè si fanno abbattere subito e si incastrano le cose lezzo mi incastro fuori io vaffanculo dai ma che cazzo oddio grandi sono andato ad aprire un'uscita no no mi ha perso dietro il muro mi ha preso sono andato ad aprire un'uscita mi ha preso dietro il muro no però così dai che sta facendo? ah non già prende l'aggetto ma che cazzo poi sta caduta di merda e mi ha fatto salire sul pallet dai e l'ha visto e arrivo tu recupera perché puoi recuperare ok non può affaccersi nessun muro e cosa ho? c'è il decisive? no perchè è inutile guarda c'è già il palletto davanti il cosa perchè lo sarebbe decisivo? vedi che sono di fianca a te vedi che sono di fianca a te ah e beh sta camperando? ah la cosa no vieni 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 che sta mirando la cosa all'uscita due le scelte una la presa per me vai 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 spezza aspetta ti ha visto mi sa ti ha visto quattro ho gli manco l'ultima l'ultima due ho fatto fargliela sprecare no vedi che non lo spreca no nessuno è borbo non ce l'hai borbo eeeh domani salvatela ma cosa? me vogliono guardale guardale niente eh e ma nessuno ha il borbo però che cazzo eeeh l'hai persi tutta potrei prendermi sai perchè ho le cose nel senso che arrivi al secondo stadio vai veloce salva 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 30 anni per ehm ce l'ha con me eh che ti salvino cazzata nera bha vabbè 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 principal mese il punto ma che salvami vabbè vabbè eh domani malissimo salva mia salva miahal video salva mia salva mia Bella Corre Ho visto Cazzata nera C'è la botola Eeeh domani mi prendi Guarda la che faccia Domani Con morto stecchito domani mi prendi Ah però ci sta Ce la stava per fare Se non usavo morto stecchito ero morto Stecchito Stecchito Morto stecchito ero morto stecchito Beh dai è andata bene Rushback Eeeh se ne vai cazzata Cazzata come una Come è solo un bip Cioè con tutto quello che ho fatto Ma c'aveva solo l'anina nano Poverito Invece Come è solo l'anina Un'altra Un'altra Ma tu che dovevi far con Jake Park? Una Un'altra salvare 3 da aggancio ah è ritornato l'altro fanno turni beh se vogliono fare chi gli offre niente oh c'è il belgio minchia povera tunisia dal finale mondiale belgio croazia e via perchè loro hanno così tanti io invece devo stare sempre con mille perchè li devo usare tutti io ne ho 534 mila ma dammene un po' mi servono ma perchè tu li tieni non li usi subito tu li tieni no no li uso li uso come cazzo fai devo dire ancora basta muori no strode e vabbè vabbè come mappa non è neanche brutta sicuramente ci sono più pallet di altre mappe eh si si puoi pure cadere dalle finestre nasconderti nell'erba e non trovarti no ma ormai sanno tutti questo gioco ormai eh quello no quello stranamente no si si quello dell'erba si ha parezzato che siamo di rango alto quindi non sia più gente tanto un hub a parte quella cacciatrice oh ecco ti guardala i gemelli i due politici neri vedi questo masso questo masso non va bene per l'oroto per l'europa va tolto subito guarda come è ridotto male per l'oroto per l'oroto guarda questo come bello grigio guarda questo invece brutto no non va bene come te come te questo è un po' come te veniamo a fare il generatore porca zio sperando che non sia il clown per clown di roaming incazio battagli non ne sento basta farò un po' porto no eccolo no aspetta vedo male è l'herry è l'herry è l'herry ho bisogno del bagno guardalo 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 cazzato l'amato sega il bagno un ministro che sto facendo il corpo no no stai arrivando altro è vero è vero è incazzato con me è incazzato con me non lo fare non lo fare incazzato è domani guardalo guardalo c'è uno sopra di te è cazzato popo occhio cambia strada dopo io ne buttalo perchè il prossimo ti becca mi sa ma c'è caduta ma non sei stordito eh no ero lontano no mi ha perduto dai ho usato me l'ha dato usato oh si me l'ha dato usato si me l'ha dato usato si me l'ha dato usato davvero l'uncino è qua hai di de coso? eh si ma c'ha morto di fer non c'è l'amore non c'è l'amore c'è l'accento si dice c'è l'amore e lui non è lui eh niente non vuole distruggere paletti questo dopo lontano se riesco stai portando da me altro che è stato di scamperante ma non mi far così che ora mi tunnelizza ma dio boh è certo no? che due coglioni ma perchè? se la gente così nabba da 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 chi è scusami? chi è? no niente perchè ginger mi ha salvato così? mi fa incazzare sta cosa il killer è la? si sta camperando c'ha i se c'ha in si oddio cazzato quello che se sta fermo non lo puoi sentire no eh certo mi sono lì ah stato nero no no vuole vai lontano e curati lontanissimo e curati ecco quel camorso di ferro ahhh 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 si riesce a venire che non sembra che non stia camperando con i sigis arrivo sicuro? eh no è ritornato cazzato nero pop no aspetti vieni ok adesso non lo sento il battito se adesso si occhio ho visto ma che mi sono salvato no cioè è ritorno di dietro oh ma fai le finte non ho capito si no è vabbè no è vabbè no è vabbè cazzato poco c'è niente vuole me dai po' che viene ehm ehm ma con l'herry è per quello che a me non piace cioè quelli che trovi farlo palettes velocissimo velocissimo la torcia c'è? ah e dall'altra parte palettes giustamente ma perchè me lo porti qua? ma che cazzo me lo porti da me? devi da cagno curami oh sto seguendo te no me anche ritorno indietro e se riesce a curarmi non mi prende ma che davanti a te come faccio a curarmi entro a moro ah se ci fosse quello lì no no se sei morta allora un altro discorso eh non lo fare eh non lo fare eh nooo ma se deve essere finito comodissimo ma se rifare all'una ce l'avrà come una eh 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 niente si ma dai ma che dio buono ma che palle però trovare la gente che si è posso dire basta con sti due perchè non è che sono al massimo già io non cagliato non troverai di meglio la porta al mondo che due coglioni correr da secondo a me eh si dovrei aver fatto il pippo no no non ha fatto un cazzo me ne frega un cazzo non colpire me eh 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 domani proprio io e te facciamo conti domani tu adesso non beccare me eh si dai però quella cosa OP eh lì c'era un pallet non l'ho visto l'ho visto troppo tardi però c'ho morto stecchito di nuovo eh no dai madonna l'ho usato che palle quando fa cosi sto gioco di nero eh culo 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 vabbè dai vediamoci una bella vista almeno che schifo eh ecco fatto ed è diventata più nera è incredibile magia questo è il destino di oggi vabbè cioè allora hanno trovato l'uscita giustamente noi due siamo i due politici italiani sono morti esatto sempre giusto abbiamo fatto il solo 9000 punti avrebbe il 9 c'è attenzione ok si si vuole sta fermo non è che va a cercare il va a cercare il cosa eh no no credo non è che vado a cercare il il neanche non è che non mi frega un chiusc io voglio sopravvivere no anzi io sopravvivere vabbè c'è stato tutti i nostri sono lo faccio e lo spiega un attimo penso che sono pronti nessuno che c'è il bordo giustamente questo verso il proprio e il culo degli altri no mostra di ferro, mostra di ferro e poi lui c'è la uscita di fianco ma io voglio, non capisco il divertimento per fare così si vabbè ecco perché dico che la community, cioè se dà in mano cosa così potente alla community veramente è un tante perché canto inter da forza la gente con la merda perché non è che diciamo un gioco di mercancione sennò diamo fastidio agli altri perché tanto così vi divertisco io testa di merda che so mi diverto da fastidio alla gente ed era rosso mi cazzo i rossi si divertono con fuoco ha un ban da 130 giorni informazioni non lo voglio sapere si può vedere banduto dallo sviluppatore bandigioco giocare dovrebbe essere divertente per assicurare la mia esperienza di multigiocatore ma si sa quale gioco no non lo so come si legge ho due Don Matteo si perché uno è un mio amico no aspetta c'è una squadra che non posso ho due Don Matteo uno e manca l'altro eh ma non ce l'ho scusa perché ho cosa sta succedendo in questo mio team che gioco di merda certe volte è un gioco di merda il covo di Don Matteo gruppo il covo da tu non vieni? ah non mi hai invitato sai com'è ah non mi hai invitato una chiave oh che finisce la stagione scusa hm? non è che finisce la stagione è già finito il 13 è finito ogni 13 del mese ah ok hanno scelto 13 perché è venerdì 13 o così a caso? hm? hanno scelto 13 perché? bu perché è il giorno spiegato in america o perché? bu tu uh? oh io so per ora c'è quanto è quanto teorea a 880 ora ma ne dimostra meno lo vuole lo ti sa ma sbaglio o è Di Maio? guardalo chi? guarda la soffora un po' filo sembra Di Maio ma tu sei Di Maio eh ma non è Di Maio ma che sorella è Di Maio ma come è? ma 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 boh io non so te ma che problemi hai è sicuro a 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 sicuro di maio poi sempre abbronzato grazie a tutti andiamo a dire basta ai camperoni eeeh 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 magro riamo un po' per il tuo punto per questo disco e davanti a me e se non manda a morire un po' di chiare nel mio letto testo posso ecco la posta ma che lo voglio è forte si è in un certo punto meglio del trappero e poi io alla ricerca del totemo perduteno muo' a trovarlo però da una cassa gialla potrebbe servire cazzo come mi ha preso non lo so neanche io come cazzo mi ha preso o mi ha abbracciato il martello l'ho trovato oppure c'è un'agitazione un po' per quando colpato di totem c'è un altro io ho trovato nessun totem diverso non ho trovato è nelle case guarda vocazione si certo che ho vocazione eh ti pareva mamma mio quanto è lenta la cosa di pallet non ho trovato non ho trovato non ho trovato non ho trovato sotto eh quella la casa lì con i scarafaggi dentro no con i scrupoli qui ci sono quelle volte camminate eh bastardo cazzato nero sarà vado a fare un genio non ho trovato non c'è farma no 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 perché vuole in un po' va qui non c'è non c'è non c'è ho appena visto c'è questo del corpo, mi ha missato, sono andato dall'altra parte, so che tutto a terra capito? beh, giusto dai, fa le tue basse c'è te che sei nabora qua si, tu guarda la live e vedrai ma sto scherzando, ma come ha fatto a vederli? scusami ma c'è barbecue allora c'è questo qua c'è vocazione, ruin e penso barbecue, quindi non ce lo dovrebbe avere non lo so, vai, speriamo di no dov'è? in strada sto rompendo i pallet e non mi devo, vai 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 si 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 questo mi allontano però stavolta ah vedi che io non corro così non ti faccio niente che sei bella vabbè ma tutta evocazione questa mappa è piccolissima c'è nel senso beh io faccio il genna si 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 ah ancora più ora che caga un altro si 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 mi sto curando su cosa è finita ok allora c'è un genna centro mappa ho visto ce ne sono due in realtà ho forse visto male ho visto male ho visto male buono ci sono color lui dov'è andato l'hai visto no vabbè dietro l'hai visto vabbè 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 se ne ritorna indietro camper mh bene io ne sto facendo un altro dall'altro angolo vabbè voi pensate a corallo io faccio questo qua cioè ho cercato a salvarlo io ho la cassetta cazzo dai ma che bottom bene non hai quindi e' coso vera adrenalina no 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 te lo devo sempre dire con claudetta non ce l'ho adrenalina vabbè vabbè visto a che livellato non si sa no ho detto non lo livello più io ho lei è perfetto che size nulla perfetto io son perfetto altro che tu non capisci non nulla eeeeh e sentire il pubblico per via il primo generatore a faccia ma non e non penso perché 3 perchè sono vocazione io ho trovato un po' per un po' trovo per la botola giustamente per vicino riuscita ma sempre preso a cosa non ho un mondo voglio vivere voglio vivere voglio continuare a vivere ho lasciato in pace sto prendo una porta ma è lenta ho lasciato in pace ho lasciato in pace hai suddito il mio desiderio anche se sono io a doverlo fare ma ho suddito il mio desiderio il ritorno ero infatti si aiuto ce l'ho com'è aiuto dove siete a a a sinistra dell'altro a sinistra dell'altra se tu vedi da dove tocco se tu vedi da dove tocco dove tocco da dove devi aprirla a sinistra devi guardarla mi sembra aspetta che qua sono impegnato ora ho un monco che mi insegue eh ma volevi colpirmi eh ma non so ecco ti vedo ti vedo vai 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 eh io vedo te ah mi hai visto me forse corri 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 ecclo ah ma l'ha chiusa è chiusa parca puttana allora allora vai nella strada vai nella strada e ci sono anch'io ecco vieni 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 sono andato te corri corri corre sono uscito aperto ma perchè quegli altri due non la aprono non ho mica capito io ho aperto questo ma perchè quella lì è chiusa ebbè la stavo aprendo io ho capito sta ritornando vabbè sto salvo eccoli qua eh povero te mi sa che quello non è africano per questo ebbè si eh vai pimpato evasione total move che bel nome aspetta cos'ha eh vedi 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 la media si era anche un 2 8 un 12 un 15 media 16 un posto bene bene non so non so non so non so belge vince quattro punti oh ehi non ci provare ma il no ma non so bellissimo mamma mia quanto conto contabella roba youtube bella e brutto è un po' come te brutto ma brutto si se il seno 4 planet baddass first grit gameplay eh ma che fucile è ma perché mettono i fucili di di forcora al di che dopo se le sono 4 non bastava il mitro di calo figlio tenere su questo mentre c'è la pompa di far cry ahahahah ahahah 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 vi ricordo che alle 20 c'è il 15 qualcuno dei 2 casa per favore ahahah l'ipnotista ho qualche amica ho qualche amica la porto di là in camerino la ipnotizzo e facciamo tante cose belle basta sembro un malato andiamo all'ospedale psichiatrico no, non lo mettere allora andiamo a Springwood no, metti Gassiven le tre mappe di schiave Gassiven, tenuta Macmillan? no, uguale però la tenuta Macmillan può venire la mappa di merda quella là senza palle quella là con l'albero di merda no, quella è piena di palle ma dove? ma nel tuo sogno no, no, è piena per un palazzo per ogni albero c'è praticamente ciao qua si chiama ciuffo ciao ciuffo oddio cosa vedo oltre al caricamento cosa vedo? eh, vedi anche un monitor, una finestra, un muro no, la finestra no io sono in una stanza chiusa senza porte e senza finestre ma tu è una prigione? no è brutto io invece ho proprio la finestra davanti salvini casa Gerini e Matteo Salvini che cazzo dici? non lo so peni, 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 peni eccola detta è venuta la mappa di merda che io non piace se poi ci vuoi schifire bene no, fa cagare è un po' ecco, guarda dietro un po' guarda dietro di te e ora non mi vedi più guarda eh uh che stai fermo, vediamo se ci vede si che ci vede ha visto te? oddio no madonna c'ho fatto un manzone cosa ho? mi ha preso? ero dentro al cosa? eh certo che ti ma ok credo che non si avessi visto l'ho bloccato eh c'ha agitazione al 3 cazzo se corre giustamente ero scritto mentre mi gratto ciao barbecue vai via ehehehe ci risconnete? no peccato ci speravo vuole me, vuole il mio culo non vuole più il mio culo ma cazzo prima che vada al secondo stadio qualcuno mi possa andare a trovare se non mi viene non so è una volta gli altri ma che cazzo fanno nella loro inutile vita luped ma perchè me lo porta qui? ma perchè sono cancri questi? ed eravamo da questa parte il killer di qua perchè non sanno giocare in coppia questi? perchè devono anche farmarli molte volte? non lo so fa una posta non lo so non lo so non lo so adesso e dai 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 finisci ah cazzato sentilo e poi usa una cassetta viola con un pezzo nuovo è stato un po' di vita è stato un po' di vita Cazzo mi ha fottuto No Franklin Cazzo di Franklin Cazzo di Franklin Eeeh Bloodlust Raffanculo Bloodlust dai Non sono vicino a un paletto No non penso, eh non ce ne sono vicino Il tuo discord forse se ne dovrà sforzare Infatti Mi sembra giusto, mi sembra doveroso anche il fatto che il discorso si spanquilizzi Ma è una cosa molto normale Come ti sta curando questo? Qua c'è un palce ha un generatore da fare Eh vado a riprendermi il mio toolkit Oh yeah boa Perché quale mi insegue? Era qui? C'è la com'è Carca puttana Svolvero di merda Si ma quanto sei veloce frate Sei troppo veloce C'è qualcuno vicino a te per salvarti o devo venire io? No devo bottiglia infatti sta venendo tutti Mi sta venendo da voi perchè sei tutti vicini Ma c'è qualcuno che sta arrivando? No 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 Arrivo Salvo costruisco i alberi Salvo costruisco i alberi Ah è da loro è da loro muoviti 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 è lontanissimo ora mi ha anche a scu adesso che sono ancora più abbassato non mi si vede infatti minchia scusa se stiamo qua per tutta la mappa no vedi perchè ma prima ci ha visto vabbè perchè forse mi stavo muovendo è così è così facciamo vedi se noi c'è alle due palle quella è un cazzo vabbè finiamo soggene che è qua vicino quanti, quanti skill c'è? infatti io c'ho 3 il massimo cos'era? 9 al generatore? boh ma penso che ci sta aspetta un attimo vedi che nelle cose si è scritto 80 cariche queste cose qua secondo me c'è una specie di percentuale per ogni cosa qua per ogni volta che va avanti c'era un coso qua dall'altra parte andiamo a raggiungerlo seguimi seguimi a me che non l'abbia finito a me che non è un coso qua sono bloccato guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì Oh, apri tu, apri tu. Apri questa a destra io, vai quella a sinistra. No, è lì, è lui, è lui. Allora lui c'ha, forse è barbecue. E che cazzo è probabilmente annoyed? No, yet. Non so come l'ha colpito, l'ha colpito con la mazzetta o con la motosera. Con la mazzetta mi sa. Allora non ce l'ho. Non apro, sta uscita inutile, c'è anche perché poi mi vede. La voce da salvare a meno che non è morto. Ma visto che ho fatto il decisive, pure la botola ad esempio qua. C'è un uscito qua proprio vicino a lui. Sì, insomma, non è aperto, ecco. No, eh, se qualcuno l'apre, provo ad aprirla. E' un'altra cosa, per la face camp. Face camp proprio davanti al muso. Apri, 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 apri. Ma mi guarda proprio, non mi caga. Guarda, là, sta rilontando torno. Mi ha matato tenuto perché ho appena verso un'altra. Oh no. Non c'è più il boro di una volta più. E mi sto sto vicino così prendi il punto. Ah, dici con una scosta. No, coraggioso. Cazzo. No, occhio, 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 è pericolosissimo. Eh, no, guarda. Oh, è cazzato. Vada, vada, qualcuno vada. Cazzato eroso. Non c'è riuscito. Cazzo, mi ha preso. Bombi, corri, puttana. Ci l'hai fatta? Sì. Bello. Sì, 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 sì. Per un pelo. Ma dov'era quell'altro? Eh, infatti, potevo salvarlo. Ma è una cancra. Minchia, per un pelo mi sono visto morto. Ma questo è cancra. Sei andato. Non c'era niente. Ah, non c'era niente. Ebbè? Si immagina. Mi dai mille ore di gioco e che scamperò così. Ok. Voglio provare a usare un po' Quanti Smith che ho. Anzi, non è vero. Stavo scozzando. Vivanti. Finché non ho.. Finché non ho la competenza di, di, di Parco. che fanno quei due civito non si levano dalle palle invita tu tanto così qua vediamo che fanno sta quindi? boh vediamo se l'hanno finito buon frattempo d'invito Matteo Salas sì ci fermiamo ok vai io faccio l'ultima ok e uso e uso sbitto e per la felicità tua non ho non ho quello là che non ti fa urlare ti faccio urlare io con la mia chiave rozza però e niente lo stavo scherzando killer non volevo la chiave scusa chiave rotta ma integra mi interessasse oh ma quella lì è online ma FK incredibile sì sì sempre ma che schifo bello fare ore così no sì infatti ma è peggio per lei perché altrimenti si trova i killer e quelli forti comori noed gankry comunque io ho provato a fare una partita senza ruin cioè tu non hai idea di come rushano come cavolo rushano cioè nel tempo di zappare uno loro hanno già fatto due gen nel zappo un altro altri due gen fatti c'è qualcosa di clamoroso c'è qualcosa di clamoroso solo per fare un 4x4 un 4x4 senza noed senza noed solo che basta cazzo che sono andato al coso o me ne sono andato io me ne sconnesse a me no 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 ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' brutto. Che miei occhi devono vedere sta roba. Questo è uno streamer di DVD e ha 11 spettatori. Oh che bello, ci siamo noi. V-wrapping spade 77? Ma è italiano? Non. No, perché ha messo spade? 2000 ore di gioco. Andiamo, andiamo. Aspetta, prendo la cassa. Oh, cassa. Vesa, vesa, vai. Vediamo questo Twitch. Sembra che se lo caghi, no? 11 spettatori. Vabbè. Potrei averceli io. Ma moglie manda il mio cosa. Eh, due streamer in un... Ma davvero glielo manda. Mamma mia Twitch, quanta pubblicità che ha. Eh, uh, è un Snoop Dogg. È Snoop Dogg che sta streamando. Guardalo, l'hai visto? Eh, sì, l'ho visto. 13 spettatori ora. Eh, perché ci siamo due. Perché non c'è la chat? No. Voglio la chat. Fatemi la chat. Io non la ho. Non lo sto ricordando. Se c'è eliminato subito. Ness'è che non vuole altri link. Che abbiamo qua? Oh, ciao. Non so se c'è ruina, ma puzza di sì. Invece no. Allora, no. È la moda. Tutti ce l'hanno. No, non ce l'ha, dai. Vabbè. Boh. C'è uno. È killer. Non due killer. Quello dietro sembra... Mi pare che l'ombra. Oh, no. Dietro di me? Ho visto qualcosa moriscono. Sono solo le foglie. Aspetta. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Non sai neanche body blockare. Senti, sta zitto te. Anzi, non sai perché. Ma killer? Ma killer, fermo? È il maialino! Oh, no. E noi ce ne le cassa, però non le vedo. Cosa fa? È lì. È fermo? Vuole fermare? No, 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 è fermo. Sono andato. Sono andato. Ci ha visto e sono andato. Eravamo davanti, eh. What the fuck? For me. No, no, attacca, attacca, attacca. Come si attacca? Eh, si attacca. Ma beccano e non c'è anche, gatto. Ih, l'ho sturdita. Che stu non vuoi fare, gatto, subito? Oh, ti vedo. Sì, 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 stavo cercando i sfuggivi. Dove sei? Dai, io sono, no, ora sono la quattro... Porca madonna. È la quattro... Eh, ma perché... Oh, cazzo, dai qua da me. Cazzata nera, guardala. La sento. Ma non so dove è ora. Penso sta ritornando all'edificio grande. Ah, ok. Ah, è di fianco a me, praticamente. Un toolbox, tool kit grigio. Oh, bella, ti ha fatto un bel juke. Non si fa fregare. Eccola, ma è vicino al pallet. C'è la pallet. Sì, 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 sono io, sono io. Eh, no, ma come è ora? Non fatti vedere, non fatti vedere. Eh, se no, è brava, non è andata sul pallet. Oh, 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 bitch, aiutoi. Eh? Lory da cagna. Sì, ma non me la portare qua. Eh? Ma come non te la portare qua? Io sono da un'altra parte. No, no, non si ferma. O me vuole più, o me. O me vuole più, o me vuole più, o me vuole più, o me vuole più. attenzione, arriva vuole me? vuole me si che vuole me? è lui o non è lui? ma che sta facendo? ma che sta facendo sto kill? non ho mica capito non lo so, non segue infatti ferisce e se ne va vabbè o meglio è per noi, magari c'è a noi che sta facendo finta di fare schifo ma con noi da fare appare schifo se già l'ho fatto se già l'ho trattato di merda quindi verso l'edificio grande io lo so, lo so, grazie davis angel dov'è? come se che sulla nostra sinistra eccolo vai dai 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 davanti eh però dai cazzo dei vinagers mi hai visto? No che non mi ha visto No che non ci ha visto Non ci vede Non ci vede A me non vede Che namba Beh continuo il gen Uh Un bel cambio Stordito Disconnect non disconnect Un ritorno indietro Non lo rompere Si costano le cose Cazzo Esatto Eh Eh we wanted Tutto No C'è praticamente Ti ho fatto 360 Solo che Cosa sto vedendo Aiuto Mi sono pagato Te lo dico io Quando usarlo Aspetta 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 Vai Non me lo fa usare Ma perché ti metti davanti Lurida troia Vai via Me lo fa abbassare Perché eravamo in due Si ma tu non hai visto cosa è successo Praticamente il pallet Se te l'hai sforzato con il pallet Solo che è stato vicino Fermo si è bloccato Va vieni 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 Ma dai ma con la lama Mi è bloccato senza volerla Allora poi blocchiamo noi Non lo salvo più Dai vieni qua che ti cura Ah niente Vabbè finchè non si fanno igiene Non si attiva Vieni vieni colami Vieni 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 E' un perco utile Sì ma se c'è la torcia anche Anche di più No perché tu fai in genere no Eh vedi i killer che ne so Eh la ce n'è uno guarda la Sì 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 lo so Ma c'è uno Meglio fare quelli lontani che Però zero bro Oddio cosa sto vedendo Cioè non ho le mani dentro Eh lo so Eh ho già fatto una scritta Che ho messo Un profilo perché veramente una roba Uh me lo so Vedi 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 Eh di Eh Se avessi ascoltato te potrei essere morto Guarda la guarda la guarda la guarda Non mi ha cagato proprio di strisce Lì che campera Io faccio il gen qua Con lo al centro Corri via Corri via E' morto Vabbè vabbè lasciala là Bene 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 Corati 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 Ah io mi perco sì Corati con medikit proprio Perché qua è quasi finito Ma mi ha fatto lo schiccio Che infatti me ne vado prima che ha fatto lo schiccio Eccolo Ho sbagliato tasto Mi ha buttato giù il pallo No Non ho sbagliato Mi stavo curando no Mi stavo curando no Stava venendo lo schiccio Del kit medico E' finito il kit medico Allora ho premuto barra spazzo dritto Ma che meravigliato al pallo Che si è stronzato Ma come Corri corri Aspetta che la devo coprire questa lurida Ma l'ha curata instant Eh sto cazzo Ma come ha fatto a colpire il tesco Ciao Uh doppia adrenalina Posso dire giocata Eh però ora c'è il problema C'è il problema Che no Bella Non è no Questo deve scappare Oh no Non ho colpito Non ci ho colpito Non lo so Non c'è ancora colpito Non ci ho colpito No no Non ci ho colpito Apri Sesamo Eh arriva Sì sì Ecco l'ecco 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 Eh Ok non ce l'ha Non lo ha Eh ma tu devi aprire Eh sì appena Appena se ne va va Sto ritornando ad aprire Se riesci ad aggirarlo a ritornare Si aprirà Eh no Ah si aprirò Ottanta Novanta Vuole me vuole me vuole me Eeeh Uah Siete Niente Ma però anche te eh Siete ne vai Eh madonna che palle Cerco la botola per te Oppure Oppure Dove che sfida il lencino Eh davanti Davanti a te No 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 Vai via vai via Madonna sei stupida Vai 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 Tieni 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 bocca Tieni bocca No Cazzo Un palletto Vieni se riesco Aspetta Va bene la maschera non ce l'ha Non ce l'ha Vaffanco Quante maschera 5 5 maschera cosa fa quella salva mi salva il mio veloce ah ma a me mi aveva preso eh lo hai già preso e quando? ah si che si era pagato il pallo togli sta maschera invece di ridere è solo di merda ma quanto è veloce ma quanto è veloce me la togli non me la togli perchè non mi salva no ma dai ma dai io sto torcente dark angel si per cui è vero e che cazzo è ma è da un po' mi interessa prova vuole me mi fermo con la maschera non c'è un po' ma dai ma con la maschera non c'è un po' ma non c'è un po' non c'è un po' ma questo non escono sono intelligenti per favore togiti non si toglie dovete uscire 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 per favore uscire da un po' escire bella bella entra no no che culo capo cinigami mille mille settecento 45 c no oddio ce l'ho pure fatto scelta di merda guarda la lì che c non è stato giusto scusa che cazzo vuol dire è 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 Vabbè io comunque Pip l'ho fatto Forse lui no Poglie Tannellare uno con la maschera Vabbè ma lo fanno i morti eh Vabbè ma quelli che mettono la maschera fanno facecam c'ho un video che è così Vabbè quindi vai tu Sì, adesso mi riposo un po' e poi ritorno tanto Ma guarda che tra mezz'oretta e un'ora ci risolvo Ok, ciao 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 ciao